Sta avendo riflesso anche in Sardegna l'inchiesta della magistratura svizzera su un presunto caso di corruzione dei vertici della FIFA, la Federazione Internazionale del Calcio, per l'assegnazione dei diritti televisivi dei mondiali 2026-2030. Tra gli indagati c'è lo sceico Nasser Al-Khelaifi, patron del Paris Saint-Germain. I finanzieri del comando provinciale di Sassari, su un mandato dalla Corte d'Appello di Cagliari, hanno sequestrato la lussuosa Villa Bianca, situata a Porto Cervo, dal valore di 7 milioni di euro. L'immobile di proprietà di una società internazionale era nella disponibilità di Jerome Valche, ex segretario generale della FIFA. Secondo gli inquirenti, anche sulla base delle risultanze dell'indagine avviate nei mesi scorsi, la Villa ha costituito il mezzo corruttivo utilizzato da Al-Khelaifi nel confronto del funzionario FIFA per acquisire i diritti televisivi dei campionati mondiali di calcio. Le fiamme gialle hanno provveduto alla presenza del giudice delegato Giovanni De Logu e al rappresentante del Ministero Pubblico della Confederazione Svizzera a eseguire diverse perquisizioni e audizioni nei confronti soggetti che a vario titolo sono riconducibili alla società proprietaria dell'immobile. Inoltre sono stati acquisiti fascicoli, documenti, materiale informatico e telematico relativo all'acquisto della Villa, che sono stati trovati nelle sedi perquisite e che saranno oggetto di successivi riscontri finalizzati alla quantificazione del prezzo di vendita della Villa che vede coinvolte 8 persone e 5 società. L'operazione, che ha coinvolto 4 Paesi della Comunità Europea, Francia, Grecia, Italia e Spagna, ha visto come parte attiva Eurojust, l'unità europea di cooperazione giudiziaria.